Allora, vediamo se c'è qualcuno che mi vede e qualcuno che mi sente. Dunque, aspettiamo un attimino. Ci sono due persone, vediamo. Se mi sentite e mi vedete, me lo potete scrivere in chat, sperando di vederla. Ok, Mario, ciao. Allora, se mi senti e se mi vedi, dimmelo. Penso che mi vedi perché sennò magari non saresti qua. Allora, ciao. Ah, sei in Albania. Caspita, ancora in vacanza. Allora, Luciana, ciao. Mi sentite? Finalmente, ciao. Allora, quanti che mi hanno scritto e mi chiedevano quando ritorno in diretta. Eccomi in diretta. Ho aspettato un pochino perché alcuni di voi erano ancora in vacanza e comunque in vacanza è meglio stare tranquilli. Si vede, si sente bene? Perfetto. Allora, questa sera aspettiamo un attimino. Vi chiedo sempre le stesse cose. Condividete magari nei gruppi. Ad esempio, nel mio gruppo Cucito, Sartorie per tutti, Cartamodelli, eccetera, eccetera, tutti i miei gruppi potete condividere così in automatico vedono anche le ragazze dei gruppi. Ciao, ciao Diana. Bentornata, bentornata anche a te. Grazie. Ciao, ciao Alfio. Io sempre devo fare attenzione perché ho sempre questa voce tremenda che va e viene. Neanche star zitta. Voglio dire, sono stata zitta tutto sto tempo, ma non è cambiato. Tiziana, poi vediamo questo corpino, eh? Che vediamo un po' come metterla a posto perché, allora, Tiziana, adesso se non riesci a capire delle cose, tu riguardati di nuovo i video del corpino che sono all'interno dell'Accademia. Però se guardi ci sono anche delle dirette che io ho fatto direttamente nell'Accademia perché qualcuno non riusciva a capire qualcosa. In base a quello, cioè se tu ti riguardi alcune dirette, secondo me capisci tutto. Però se dovessi avere ancora difficoltà farò un'ennesima diretta solo per il corpino ma nel gruppo dell'Accademia e quindi che non sia visibile agli altri ma solo a quelli che hanno acquistato l'Accademia. Perciò, Tiziana, ti chiedo di dare un'occhiata come si deve anche agli altri video che ho fatto in diretta e se per caso ancora ci sono dei problemi che ancora non capisci, proverò a fare un'ulteriore diretta piccolina per far capire alcune cose. Ok? Allora, il tesoro volevo chiedere una cosa, aspetta pur, no, io tesoro, scusa, se riesci a farmelo vedere di nuovo questo messaggio, eccolo qua. Io tesoro, volevo chiedere una cosa per quanto riguarda le tende, se ricordo bene si mette sempre un 3 cm in più della misura presa. Ti ricordi giusto? Brava Carmela, ti ricordi giusto? Allora, vedo che comincia a salire il numero. Allora, nell'attesa, pochi minuti, per quelle nuove, perché vedo che comunque ci sono delle persone nuove, allora innanzitutto se non vi saluto tutti, non prendetevela perché qualcuno ogni tanto mi scrive Ah, non ti saluto più perché non mi hai salutato. Io in diretta non vi vedo tutte, oggi sono anche senza occhiali. Allora, mi sono, cioè, è successo un problema con gli occhiali, sono dall'ottico e a parte che con il computer davanti a volte dovevo anche togliere, quindi vabbè. Però, voglio dire, non vedo sempre tutti i commenti in tempo reale, perciò non ve la prendete. Io vi saluto tutte ugualmente. Giussi ti saluto, Carmela, Rosaria. A me fa piacere tantissimo vedere. Poi più commenti ci sono e più Facebook mi fa girare, nel senso che per me diventa, diciamo, una cosa bella, perché così mi fa conoscere a più persone. La stessa cosa YouTube. Perché le ragazze quando creano dei video, le ragazze su YouTube dicono sempre mettetemi il pollicione in su e cose di questo genere? Perché naturalmente più uno ha dei like più va avanti. A me non piace chiedere sempre queste cose. Credo che sia una cosa che uno deve fare se se la sente, se ha la voglia di farlo, ma forzare la gente non mi va. L'unica cosa che vi chiedo io è di condividere, perché così, anche condividendo, gli altri possono guardarmi in video e possono magari decidere di continuare a seguirmi. Allora, ritorniamo a noi. Cosa parliamo questa sera? Dai che vedo che ancora siamo un po' bassi, però c'è anche questo da dire, che è una delle prime dirette dopo tanto tempo. E quindi molti sono appena tornati o non sono ancora tornati e quindi ci sta. Poi dico la verità, c'è ancora un po' di caldo fuori, no? Almeno qui da me c'è abbastanza caldo, che di solito qui in montagna non è che faccia caldissimo. E essere a settembre, se c'è ancora un po' di caldo, è una cosa bella. Così spalmiamo un po' di legna, perché io vado a legna. Ah, però, forse, forse, non è ancora sicuro, ma forse mi sposto per un po' di mesi a Torino e così se mi sposto a Torino, le persone che abitano a Torino magari possiamo organizzare qualcosa. Già l'avevo detto, poi quest'estate dovevo incontrare una persona e non l'ho vista. Altro, c'è stato un po' di casino perché poi comunque quando si è in vacanza uno decide di andare in un posto, il marito vuole andare da un'altra parte, insomma un po' così. E così non sono riuscita a incontrare le mie donne. Allora, facciamo questo, che cominciamo a parlare dell'argomento di oggi. Volevo parlare delle macchine da cucina, perché? Perché anche questa diretta nasce da tante mail che mi arrivano, da tante domande che mi fate. Quando qualcuno vuole acquistare una macchina, spesso e volentieri, se ha le prime armi, non sa che macchina prendere, non sa cosa decidere e vorrebbe magari sapere cosa sarebbe meglio acquistare e che differenza c'è tra una macchina e l'altra. Se parliamo di macchine così, quelle che utilizziamo noi da tavolo in casa oppure anche in sartoria, perché queste macchine possono andare bene anche in sartoria, parliamo di macchine o meccaniche oppure macchine elettroniche. Allora, vi faccio vedere una cosa. Io adesso ho messo le mie macchine, neanche tutte, ho messo quelle che ho, per farvi vedere. Dunque, questa qui, che è quella che uso di più e che praticamente è la mia nuova macchina, questa che è una macchina, necchi, non so se si vede bene perché è un po' al buio rispetto alle altre, è una necchi vecchia, vecchissima, di quelle super pesanti e poi ne ho un'altra che è sempre meccanica, quindi meccanica questa brote e meccanica questa necchi, questa vecchia necchi. Che cos'hanno di differenza questa brote e l'altra necchi, che sono due meccaniche, al contrario di questa invece che è elettronica. Allora, queste due meccaniche si distinguono per il fatto che questa qui ha una bobina tipo questa ed è diversa da quella lì, questa è rotativa e ha la bobina qua sopra che gira in questo modo questa invece ha la bobina che si infila qui sotto e gira in questo senso in verticale spero che si veda questa gira questa gira ma in verticale e hanno quasi tutte la bobina in metallo queste che girano in verticale questa è oscillante mentre questa è rotativa allora che differenza c'è? innanzitutto dal fatto che come dico essendo rotativa è qua sopra e gira in questo modo è più comoda anche da sistemare mentre l'altra bisogna sempre questa qui che è vecchia bisogna tirarla su mentre quelle che fanno nuove ad esempio possono avercelo qua quindi basterebbe aprire questa parte e la trovate poi qui se è oscillante oscillante e rotatoria è quella differenza lì l'oscillante costa meno ed è più pesante cioè più rumorosa più che altro più che pesante è rumorosa come macchina è più rumorosa di quella rotativa quindi sarebbe consigliabile la rotativa però esistono tantissime macchine oscillanti che comunque vanno avanti anni e anni voglio dire non è che se è oscillante magari dopo poco si rompe non vuol dire oscillante diciamo che è un po' più brigosa anche magari come mantenimento come pulizia come queste cosine qua e poi comunque ha un altro meccanismo è diverso da come va ha una navetta che gira mentre gira il mentre gira il filo e quindi gira in questo modo oscilla giusto? per questo si chiama oscillante io non riesco a farvela vedere bene perché non c'è una gran luce magari in un altro video vi faccio vedere anche proprio il movimento queste qua sono tutte e due rotative sia la sia quella elettronica che quella meccanica così le elettroniche sono tutte rotative cosa cambia dalla meccanica alla elettronica? allora la meccanica esistono tantissime qualità di meccanica che costano pochissimo quindi abbiamo delle meccaniche che partono addirittura da 100 euro perciò se uno ha pochi soldi diciamo così e vuole cominciare a cucire può benissimo buttarsi su una meccanica che è anche forse più resistente dell'elettronica l'elettronica è un po' più delicata su certi aspetti quindi la meccanica diciamo che è più facile da utilizzare senza troppi problemi senza dover stare a prestare troppa attenzione al filo che uno usa perché l'elettronica ha questo diciamo questo difetto che non è un difetto ma è proprio perché essendo elettronica è una macchina molto precisa e quindi essendo precisa lei si accorge se io ho un filo di un tipo sopra e un filo di un altro tipo sotto cosa che la meccanica diciamo che se ne accorge meno a volte ci sono anche le meccaniche che possono fare fatica con un filo diverso da un altro ma non come l'elettronica l'elettronica bisogna proprio fare attenzione che i fili siano dello stessa qualità perché se sono diversi vi può fare un punto sballato vi può anche saltare il punto può anche non farlo oppure si spezza facilmente io questo lo so perché io ho diversi fili a volte per non stare a andare a acquistare magari un altro filo mi dico metto questo filo qua specialmente se fai un ricamo non è il caso perché poi succede che non viene bene quindi conviene andare a prendere il filo giusto e mettere il filo giusto l'elettronica è un po' noiosa su quel fatto la meccanica abbiamo detto che parte da 100 euro una macchina meccanica che costa 100 euro può essere diciamo ha i punti essenziali e ha dei punti fissi cosa vuol dire che se costa un centinaio di euro spesso e volentieri sono punti fissi che non si possono regolare come lunghezza e come ad esempio uno zigzag che si regola il punto e farlo o più largo per dire punti fissi si chiama proprio così e ti dice proprio che sono quelli e basta e in genere sono sette punti circa da una macchina all'altra può cambiare però diciamo che di base sono così l'anecchi ne ha una che ha sette punti fissi e che costa me lo sono segnato allora me lo sono segnato qui costa 109 euro ed è la 81 la numero 81 ha solamente i punti fissi e fa l'asola a quattro tempi cosa vuol dire l'asola a quattro tempi che farà prima una travetta poi farà la chiusura sotto poi farà l'altra travetta e poi farà di nuovo la travetta superiore di chiusura e quindi sono quattro tempi quindi ogni volta si va a spostare la manopola in questo caso questa qui è una meccanica che fa a quattro tempi e quindi ogni volta che io devo fare l'asola se io ho da fare l'asola prima vado sulla 1 sono numerati e uno sa dove deve andare poi va sulla 2 e poi torna sulla 1 per fare la travetta e poi va di nuovo sulla sulla 3 in pratica 1 2 3 e 4 e due volte mi sono sbagliata io nel dirvelo comunque sono quattro tempi quindi si gira avanti e indietro finché non si è finito di fare l'asola esistono anche delle meccaniche che hanno un'asola a un tempo però sono quelle meccaniche che costano di più allora parlando di meccanica che costa poco abbiamo come ho detto quella da 100 euro che ha solo i punti fissi e non non ha i punti elastici poi invece andiamo su una macchina sempre meccanica che ha anche i punti elastici e allora andiamo su una macchina che costa qualcosina di più e ci spostiamo come prezzo quindi 129 euro la meccina ha una che costa quella cifra lì che è la 82 me le sono segnate perché c'è stata una signora che mi ha chiesto quali sono le macchine io ve le dico così non le so tutto è a memoria e per questo me la sono segnata qua perché so che questa fa anche i punti elastici in tutto però fa 8 punti però questa macchina che costa poco di più di 100 euro vi dà anche la possibilità di regolarli quindi di regolare la lunghezza del punto e di regolare anche lo zigzag anche se ha sempre un'asola a quattro tempi esiste poi queste macchine a proposito sono anche macchine abbastanza robuste per il fatto che riescono anche a cucire il jeans il problema è più per i tessuti un po' diciamo quelli nuovi che sono particolari e allora se non hai i punti elastici qualche volta fatichi a cucire gli altri tessuti tipo quelli di maglina ecco cambiando l'ago avendo certe accortezze riusciamo lo stesso a gestire però riusciamo a gestire di più la macchina che fa qualcosa in più ad esempio se vogliamo cominciare a cucire qualcosa per noi anziché andare a prendere quella da 100 euro che è proprio quella base andiamo a prendere una che vada sui 129 oppure che salga un pochino 140 in questo modo man mano che sale ha delle funzioni sempre maggiori e quindi possiamo avere 17 punti 12 punti avere qualcosa in più ma oltre ad avere qualcosa in più avremo anche una macchina che riesce a lavorare più tessuti con meno fatica se poi andiamo a vedere una macchina elettronica la differenza tra la macchina elettronica e la macchina meccanica qual è? è proprio il fatto che essendo elettronica ha una marea di punti in memoria e quindi riesce anche a fare dei ricani la differenza sostanziale è quella ma cosa succede che la macchina elettronica ha anche la comodità di avere i punti che si selezionano solamente con i tasti mentre quella meccanica ha i punti che si selezionano con la rotella quindi avrà una rotella per selezionare i punti e avrà una rotella se ti permette di allungare il punto o di allargare lo zigzag avrà una rotella anche per quello questa ad esempio ha solo il fatto di avere la rotella che definisce i punti ma sostanzialmente sono punti che rimangono fissi queste macchine qui che sono elettroniche al posto di avere un'asola sola ne hanno molte di più quindi hanno la possibilità di scegliere tante asole mi sembra che questa ne abbia otto quindi abbiamo le asole poi abbiamo la possibilità di fare gli alfabeti e poi dipende sempre dalla macchina da cucire che uno compra perché anche le elettroniche hanno più o meno funzioni a secondo del costo c'è il fatto anche di poterla regolare con la velocità quindi abbiamo tre velocità mentre con la meccanica sei tu che ti vai a regolare con il piede quando vai a spingere o a cioè ad abbassare l'areostato a secondo di come ti conviene e di come ti senti tu di andare la differenza tra queste macchine che sono macchine casalinghe o macchine professionali ma che sono da tavolo con le macchine industriali qual è la differenza sicuramente molti di voi lo sanno è anche la velocità perché queste macchine fanno 800 punti al minuto circa e poi cambia nel senso che se io metto un punto da ricamo per dire la macchina non va più così veloce va molto meno veloce poi facendo tante cose diverse avendo la possibilità di fare diversi punti non può andare a una velocità folle come fa la macchina invece industriale la macchina industriale è adatta proprio all'industria si chiama così apposta perché perché se tu vai e vuoi fare una mettere su un laboratorio a catena allora è adatta perché perché la macchina industriale fa una determinata cosa o fa le asole o fa i sottopunti o è una macchina lineare e quindi fa solo una cosa e quella cosa la fa molto bene e quindi andrà a 3.000 4.000 punti al minuto cosa che così sveltisce il lavoro ma cosa fanno le macchiniste sono alla macchina e fanno quella cucitura e quella sempre quella stessa cucitura mentre noi quando facciamo un abito lo facciamo dall'inizio alla fine quindi faremo tutto il lavoro e quindi a noi non interessa che vada super veloce certo un pochino più se va veloce va bene velocissima non può andare perché ha tante funzioni non ha una funzione sola la stessa identica cosa è per le tagliacuci la tagliacuci allora innanzitutto mi chiedono la tagliacuci ma se prendo quella al posto di prendere la macchina da cucire allora no la tagliacuci è un'amica della macchina da cucire ma non la sostituisce infatti la tagliacuci non ha tutte le funzioni della macchina da cucire e poi la tagliacuci come dice la parola stessa taglia e cuce la sua funzione principale è quella della surfilatura quindi anche qui abbiamo delle macchine che costano per dire una macchina che costa poco 199 euro a dire la verità dalla Neki la trovi a 199 euro ed è la 178 se uno ha bisogno di segnarsela se la segni che questa è quella che in questo momento costa meno questa macchina la 178 che cos'ha di proprietà è già una macchina di buon livello perché fa 1200 punti al minuto vedete la differenza 1200 contro 800 quindi è molto più veloce della macchina da cucire e perciò quando dobbiamo fare la surfilatura oltre che parla molto bene perché se noi facciamo uno zig zag con la macchina da cucire la rifinitura non sarà mai bella come quella della tagliacuci sarà anche molto più veloce quindi io farò molto prima a rifinire tutti tutte le cuciture del mio vestito mentre se lo faccio con la macchina da cucire mi vuole un po' più tempo cosa ha di bello la tagliacuci anche che può lavorare con 3 4 fili anche per questo sta va molto meglio nella rifinitura perché lavora con più fili questa che vi sto parlando ora la 178 lavora con 3 e 4 fili mentre se noi e ha un braccio libero mentre se noi andiamo su una macchina che costa un po' di più in questo caso io vi parlo della Neki perché le conosco un po' meglio e so che comunque in questo periodo stanno andando bene lavorano bene e poi perché la la Neki si è messa d'accordo insomma con me che chi vuole acquistare da lei e arriva da Fashion Frozen può ottenere uno sconto io questo sconto lo dico sempre è F F praticamente Frozen 1020 se volete poi ve lo scrivo e la 183 costa un po' di più di 199 euro adesso io non mi ricordo bene il prezzo però ha una proprietà qual è? che ha la possibilità di andare anche a due fili cosa che la 178 non va quindi se uno non ha tanti fili dello stesso colore a volte ha anche comodità risparmia in fili e comunque con due fili ti fa lo stesso una bella rifinitura quella è la proprietà della 183 le diversità tra una tagliacuce e un'altra bene o male sono nella anche queste diciamo nelle proprietà che hanno qualcuna fa qualcosa di più qualcuna fa qualcosa di meno naturalmente la 178 è già una buona macchina perché è pesante è stabile hanno tutte le ventose in modo che mentre vanno non si spostano e riescono a fare il lavoro velocemente hanno la proprietà anche che si può escludere il coltello cosa che nell'industriale non è possibile la tagliacuce industriale va così diciamo che surfila e basta mentre le tagliacuci che fanno professionali e che utilizziamo noi hanno anche la possibilità di fare diciamo qualcosina di diverso tutte le tagliacuci possono fare l'orlino rolet quello che a noi piace tanto che chiamano anche urlo bambola così non è difficile da infilare la 183 più facile ancora di tutte le altre perché si apre completamente quindi la parte davanti si apre perfettamente e quindi si possono vedere anche i passaggi e infilare ogni diciamo filo in modo agevole esiste poi come dico andando sempre oltre quella che costa 400 e passa euro che è la mia vediamo se riesco a inquadrarla eccola qua questa è la 435 tra l'altro ne è arrivata una nuova sempre nella sempre nella NECI che è la NL11C e anche quella costa 449 euro comunque questa che vi ho fatto vedere ora ha la tensione automatica quindi qui non c'è neanche bisogno di regolare la tensione tranne che per delle piccole a volte dei tessuti un po' particolari bisogna solamente controllare ma solitamente non c'è da far nulla quello che vi dico sempre e che continuo a dire anche qui sono importanti molto i fili quando infiliamo la tagliacucci cerchiamo di mettere un filo della stessa qualità quindi 4 fili tutti della stessa qualità se non vogliamo trafficare con le tensioni perché ogni filo può cambiare e far lavorare diversamente la macchina e queste sono tutte macchine molto sensibili ok allora mi sembra di avervi detto tutto se però c'è qualcosa che mi volete domandare che io sappia io premetto che non sono un tecnico quindi vi ho detto le cose che io conosco le cose che io so magari potrebbe cioè se la domanda è troppo tecnica magari potrei non essere in grado io vi dico e vedo le differenze le tagliacucci e le macchine da cucire le sto utilizzando da un sacco di tempo sia quelle industriali che non e quindi qualcosina penso di avere imparato allora buonasera Rosaria Carmela buonasera avevo già salutato anche Carmela e vedo che però non mi arrivano tante chat forse non Alfio ciao non ti avevo salutato prima Beba ciao Franca ciao allora grazie per il bentornata Claudia ti vedo ciao Lina ciao allora quelli che non ho salutato Barbara ciao Luciano avevo salutata comunque ragazze se avete delle domande io vedo che non scorrono domande o non le vedo io se avete delle domande provate a scriverle se per caso non le vedo rispondo poi successivamente il giorno dopo perché naturalmente rimangono quando qualcuna di voi mi chiede per le macchine da cucire io gli mando il link di quelle che bene o male credo siano interessanti un'altra cosa volevo dire io ho fatto il confronto tra la Neki e la Brotter che sono le due macchine che io ultimamente ho e la Yuki io avevo poi l'ho regalata mia figlia perché era nuova e io mi sono presa questa qui comunque la Brotter a parità di prezzo quella elettronica faccio un confronto con le due elettroniche ne ho un'altra elettronica della Brotter che hanno sono tutte e due molto buone però c'è la Neki che con un prezzo inferiore ti dà molti più punti mentre la Brotter diciamo che costano un po' di più sono sempre buone ma costano un po' di più detto questo per chiudere la diretta se nessuno ha delle domande da farmi e io non ne vedo di domande ma cosa sono ferrato sarò critico dai Mario mi hai detto che sei ferrato e critico dimmi che cosa non ho detto bene allora Mario se mi vuoi scrivere qualcosa ascolto e lo leggo però devi scriverlo se no come faccio allora se ho detto delle inesattezze correggimi Franco ma allora non mi sta rispondendo ah dunque la Neki la combinata perché questo qua mi ha tagliacucci combinata punto copertura c'è un qualcosa davanti a questa domanda che mi hai fatto tu Carmen e non riesco a leggerla tutta però allora c'è la Neki che fa la combinata e fa tagliacucci e punto copertura era il dubbio che avevo io perché mi faceva gola prendere quella conviene sì conviene infatti un po' dispiaciuta lo sono io ho preso questa qua perché ha la la tensione automatica però una volta che uno eccola qua ha la tensione automatica se la guardi è molto simile a quella che è combinata ho sentito una signora che l'ha acquistata e mi ha detto che è contentissima e che va molto bene perciò io ti dico se tra l'altro non costa tantissimo c'è poca differenza tra questa e l'altra aggiungici quello che serve e prendila tranquillamente ci metti lo sconto F Frozen 10-20 ti fanno ancora un po' di sconto e quindi la paghi ancora un po' meno io forse in te l'acquisterei perché dopo mi era dispiaciuto di non averla presa solo che mi aveva attirato il fatto che questa qua avesse la tensione automatica e quindi facesse tutto da sola e allora non sono andata su quella perché l'altra non ha la tensione automatica ma sono tutte anche talmente facili da regolare che probabilmente avrei potuto benissimo prendere quella hai un suggerimento per usare l'ago doppio se non si ha il secondo supporto della spoletta grazie ma se non hai io adesso non so che macchina hai allegra però li vendono i supporti per mettere il secondo supporto ad esempio ti faccio vedere allora ad esempio c'è questa macchina che ha solo questo supporto io ho l'altro da infilare eccolo qua no ha questo supporto però qui c'è un buchino dove poter mettere un altro supporto quindi io potrei benissimo comprare il suo uguale a questo e metterlo qui quindi guarda bene nella tua macchina perché secondo me c'è un buchino da poter infilare un altro di questi di queste cosine diciamo per infilare per infilare il filo quindi controlla bene e se no mandami il nome della macchina che controllo io se te lo trovo se ti trovo dove dove va infilato perché generalmente tutte le macchine hanno la possibilità di metterci un altro anche se spesso vengono fornite solo con un supporto però generalmente c'è la possibilità di infilare l'altro e su internet le vengono perché ad esempio anche quella vecchia che io ne ha due poi ne ha addirittura un altro buchino per mettercene un altro quindi la possibilità secondo me c'è allora allegra una singer sì guarda che c'è sai tu fotografala dall'alto e poi mi metti la foto nel nel gruppo e vedrai che ti trovo il buchino perché di solito c'è se non c'è il buchino abbiamo la possibilità al limite di acquistare quei supporti che vengono lasciati poi appoggiati al tavolo e dove puoi benissimo infilare l'altro filo e quindi puoi utilizzare il doppio ago con facilità lo stesso che pensi della si è buonissima Luisa è buonissima anche la tua macchina certamente sì ottima a me piace anche ricamare anche qui quale macchina è consigliabile acquistare allora ho già perso il commento di chi me l'ha fatto eccola qua Carmen allora io non so se tu abbia già una macchina comunque io ho questa che fa di tutto questa ha 430 punti mi sembra io adesso non mi ricordo più quanti ma ne ha talmente tanti e ha talmente tanti punti per ricamo perché qua sotto poi ci sono tutte le schede con tutti i ricami tutti in memoria non è nemmeno facile cioè nemmeno scusa non è nemmeno difficile imparare ad utilizzarla perché è un po' come il telefono una volta che hai capito quali tasti pigiare sei a posto infatti ha la memoria quindi qua ci sono le memorie basta cliccare questo e far andare sulla memoria giusta e qui di fianco trovi il simbolo al quale è legata questa memoria e quindi una volta spostato questo vai poi a cliccare qui i numeri i numeri li ritrovi nella scheda quindi hai qua sotto le tue schede che basta che ti ripuori io spero che si vedano ma è piuttosto comoda eccole qua le schede ce ne sono tre una dietro l'altra e ogni scheda vicino al punto ha il numero il numerino da digitare quindi una cosa semplicissima e l'unica cosa è quando dobbiamo ricamare con la macchina qualcuno non lo sa bisogna metterci sotto al tessuto bisogna prepararlo prima con una telina adesiva in modo che stia rigido oppure esiste anche quello assolubile in modo che tu la metti ma poi praticamente svanisce quando lo lavi svanisce diventa idrosolubile comunque ricordarsi di fare quello e poi dopo utilizzare il filo adatto per avere un bel ricamo perché deve essere fatto in modo preciso e la macchina lavora in modo preciso quando utilizziamo il suo filo giusto se invece hai non vuoi acquistare una macchina di questa di questa portata perché costa 449 adesso che è in offerta puoi acquistare una macchina che ne costa 3 adesso non ricordo bene ma 3,99 mi sembra 100 euro in meno e ha moltissimi punti anche quella è uguale solo di colore blu e ha moltissimi punti anche quella se no ce n'è un'altra che costa ancora un pochino non meno e ha sempre tanti punti cambia però col fatto che ha questa ha tre alfabeti mentre le altre vanno a scendere quella che costa meno ne ha uno l'altra ne ha due e questa ne ha tre se no uno può andare a prendere una macchina normale e poi se ti piace tanto ricamare fare quello a mano libera quindi togliere il trasporto della macchina e direzionare tu con il tessuto a mano in modo da ricamare lo stesso si può ricamare anche con una macchina normalissima meccanica però bisogna impostare il punto in modo da regolarti oppure cioè poi comunque devi sempre togliere il trasporto in modo che sei tu che giri il tessuto e ho fatto anche un video che fa vedere come si lavora e come si ricama nella macchina meccanica togliendo il trasporto e si fanno ricami bellissimi basta avere il disegno nel tessuto e poi segui il disegno anche con un punto lineare andando su e giù fino a che si riempie tutto il disegno oppure fai le lettere ad esempio solo il contorno devi fare attenzione a seguire bene i contorni che hai disegnato e quello lì lo passi due o tre volte in modo che si ingrossa un po' e così riesci a fare il ricamo ci sono alcuni accorgimenti uno riesce con l'ingegno a fare di tutto allora ragazze c'è qualcos'altro di domande? anecchi logica che ricama e una combinata caspita hai tutto Silvia la logica sì la logica è ancora meglio di questa allora Silvia ti consiglia di prendere la logica la logica mi sembra che parta da 800 euro poi anche lì più proprietà e più costa e anche questa deve essere comunque programmata in un certo modo io aiutami Silvia devi spiegargli tanto Carmen mi sembra che sia nel gruppo quindi al limite gli spieghi bene come deve fare per sincronizzare perché ci sono dei programmi da seguire che sono nel web se non erro e quindi ci dai una mano tu se per caso acquista la logica allora gli dai una mano allora Silvia mi sembra che sia attrezzatissima logica è combinata e siamo a posto allora vediamo buonasera io ho la 435 è quella che ho io e la sì non costano tantissimo sono sono molto comoda e funzionano bene sì allora la 435 è l'anecchi che è la tagliacucci e ce l'ho anch'io la NC10 la NC10 sai che non ho presente qual è comunque sono tutte macchine molto buone quelle dell'anecchi l'unica è quelle che sono diciamo le meccaniche le prime che ho detto fanno meno punti sono buone funzionano bene ma fanno meno punti e quindi sono un pochino più scomode allora grazie Allegra ci sentiamo presto io non ho ancora provato per ricamare chissà se riuscirò secondo te sono valide certo che sono valide sì sì vai tranquilla si riesce a ricamare io ho già fatto qualcosa e sono venuti anche molto bene anche gli smerli gli smerli nelle tende oppure nella nella tovaglia puoi fare tutte queste cosine qua tra l'altro chi ama queste cose voglio dire chi ama del cucito creativo allora gli conviene prendere una macchina che fa anche il ricamo perché è facilitato e fa un sacco di cosine ma anche solo per fare delle camicette io mi sono fatta una camicetta che era tutta nera per diciamo cambiare un po' e fargli qualcosa di diverso gli ho fatto dei ricami bianchi e quindi ho fatto tutto dei ricami bianchi nella parte della spalla perché mi piaceva ricamare quella parte lì e quindi ho fatto un ricamo poi bianco e nero a me piace e me lo sono fatta con la macchina da cucire così è veloce certo a mano è più bello ma ultimamente non ho più il tempo neanche di respirare quindi ho dovuto accelerare diciamo così allora Ida sei in ritardo ma ti perdoniamo e comunque trovi tutto registrato ah prima di chiudere che vedo che se ne vanno tutti devo rispondere ad alcune mail che mi sono arrivate allora mi chiedono innanzitutto il corso gratuito che io avevo messo in sovrappressione ma adesso è sparito vabbè lo rimettiamo eccolo qua il corso gratuito è un corso che ti dà io lo dico sempre ormai lo sapranno anche i muri quattro video dove insegno le basi allora gonna base pantalone base e corpino base naturalmente la modellistica non è solo questo però le basi sono la parte più importante imparate a fare le basi e poi se vi interessa altro Marzia che sono io ha un corso che è l'Accademia del Cartamodello e Confezione è un corso unico perché sul web non ce n'è di altri uguali potete girare e cercare ovunque ma che sia uguale al mio non ce n'è ci sono tanti altri corsi vendono altri corsi ma molto molto più piccoli il mio ha un prezzo irrisorio per il fatto che ci sono all'interno 140 video lezioni e che sono tanta roba parte dalla gonna e va a finire i costumi da bagno quindi gonne pantaloni corpini maniche giacche cappotti abiti quindi come ho detto costumi da bagno in più c'è la base del cucito ma la cosa diciamo particolare del corso e ci tengo a dirlo è che non è fatto con squadre rapportatrici quindi utilizziamo le misure le misure delle persone facendo il cartamodello con la misura della persona cosa facciamo? impariamo a creare un cartamodello che è adatto alla persona quando utilizziamo le squadre rapportatrici o qualsiasi altra diavoleria per le proporzioni utilizziamo un metodo standard per persone che hanno misure standard se utilizziamo la misura personale io sostituisco le mie misure e quindi avrò un cartamodello il più possibile uguale alla mia persona naturalmente dobbiamo imparare a misurare bene le persone quindi a misurare bene noi stessi e le persone per cui dobbiamo fare il cartamodello naturalmente è molto semplice perché non ha conti difficili da fare ma ci vuole un attimino e ci vuole un pochino di attenzione ok? detto questo ho risposto a tutte quelle che mi scrivono ma tu usi le squadre rapportatrici ecco allora io ho già risposto no non utilizzo squadre rapportatrici mi chiedono ma io cosa devo comprare cose normalissime se avete dei bambini che vanno a scuola potete addirittura prendere la loro riga o la loro squadra quindi non servono cose particolari allora per imparare ci va solo un po' di attenzione e voglia di fare se avete la passione potete farlo potete venire con noi e all'interno esiste un gruppo che vi dà anche una mano quindi quando uno non riesce a capire qualcosa si è aiutati Tiziana ricordati di guardare di nuovo quella cosa del corpino e di guardare le dirette che ho fatto e che trovi dentro il gruppo se qualcosa non la capisci mandami il messaggio nel post con un post di nuovo e al limite io in settimana vedo di risolvere la questione ok allora io vi saluto tutti quanti e vi do appuntamento per la prossima settimana se mi fate sapere qualche idea qualche cosa per la prossima lezione così magari mi date una mano ok vi saluto tutti ci vediamo alla prossima ciao ragazze ciao 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 ciao